Grazie, e adesso andiamo con Bongo Bongo Bongo, che non trovo il numero stavolta io ragazzi, 36, e diamo i numeri, e con questo poi vi lasciamo, faremo la sigla e leggendo allora come si dice, eccola qui, grazie mia. Bongo 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 Eric Bongo 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.